Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto e-book reader accessori trasmettitore audio FM. Il nostro nuovo e rinnovato trasmettitore FM di 2 generazione per Unbone User Reader B630 cambierà per sempre il modo in cui ascoltate la musica nel vostro veicolo. Immaginate di poter ascoltare tutta la musica sul vostro Unbone User Reader B630 direttamente dalla vostra radio FM nell'auto. Il nostro trasmettitore FM non solo diffonderà i vostri brani direttamente nello stereo FM, ma, allo stesso tempo, agirà anche come un potente caricabatterie per Unbone User Reader B630. La configurazione è intuitiva, semplice e richiede solo alcuni minuti, e i risultati sono stupefacenti. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.